buon pomeriggio a tutti benvenuti all'istituto affari internazionali per questo evento sulla difesa missilistica l'europa e l'italia devo dire è un vero piacere per me ospitarvi tutti oggi soprattutto per questo evento e in questo formato come sapete siamo ormai nella nostra nuova sede e ancora non abbiamo la possibilità di ospitarvi molti in questa nostra nuova sede e oggi in realtà il primo evento questo è il primo evento che che facciamo in versione diciamo ibrida ed è un vero piacere farlo in particolar modo nel programma sicurezza difesa scusatemi dell'istituto affari internazionali eh e farlo eh assieme a uno dei nostri partner strategici eh Leonardo quindi è un vero piacere avere qui con noi l'amministratore delegato eh di Leonardo Alessandro Profumo eh avere qui con noi eh in sede il capo di stato maggiore Enzo Vecciarelli l'amministratore delegato Lorenzo Mariani di MBTA eh e ovviamente eh Flavia Flavia Giacobbe eh di Formiche con cui collaboriamo eh molto spesso eh quindi appunto dicevo tema molto importante per un programma estremamente importante per l'istituto eh con un nostro partner strategico con Guido eh che eh che è con noi eh sullo su uno schermo e Guido spero che presto ti avremo anche te a te qui qui in sede all'OIAI eh nulla io per rispettare in realtà le norme di sicurezza continuerò a seguirvi dal mio ufficio dall'altra parte della eh della della sede e Flavia passo la parola a te. Grazie Nathalie grazie per averci ospitato questa bellissima sede ed è nuova dell'Istituto Affari Internazionali. Bene saluto tutti coloro che ci stanno seguendo via Zoom. Prima di dare inizio a questo incontro vi ricordo che ci raggiungerà a breve il ministro della difesa Lorenzo Guerini al quale affideremo naturalmente le conclusioni di questo incontro e che eh dopo gli interventi dei relatori eh sarà possibile rivolgere delle domande agli speaker potrete prenotarvi fin da ora scrivendo la domanda in chat su Zoom e sarà mia cura naturalmente leggere le domande agli ospiti. Ehm l'incontro di oggi come diceva eh Natalie eh si rivolge alla difesa missilistica e prende spunto dalla presentazione di una eh ricerca realizzata dall'OIAI sugli scenari della difesa missilistica in Europa e in Italia con una interessante panoramica anche sui paesi alleati della Nato. Io do la parola ad Alessandro Marrone per tracciarci la panoramica che riguarda in particolare il nostro paese poi parleremo invece dell'estero. Prego Alessandro. Grazie Flavia. Buon pomeriggio a tutti. È un piacere e un onore per me introdurre il nostro studio davanti a un panel così qualificato. Aprile millenovecentottantasei due missili SS1 Scud vengono lanciati alla Libia contro una base statunitense a Lampedusa cadendo pochi chilometri a largo delle coste italiane. Anni novanta durante le guerre nell'ex Jugoslavia il territorio italiano era a tiro dei missili del regime serbo a sua volta oggetto ai bombardamenti Nato che partivano proprio dall'Italia. Duemila e undici gli arsenali libici diventano preda di milizie, gruppi terroristici e criminali in un stato di anarchia che dura tuttora. Duemila e venti i militari italiani di stanza nella base di Erbil subiscono con gli alleati americani l'attacco missilistico da parte iraniana. Duemila e venti Mosca testa con successo il proprio missile ipersonico. In una fase storica che dal duemila e quattordici vede costanti tensioni tra Russia e Nato mentre l'Italia ospita armi nucleari tattiche americane fondamentali proprio per la deterrenza e difesa Nato. Questo breve scursus se volete un po' impressionista vuole far comprendere l'importanza difesa missilistica per l'Italia. Importanza per la sicurezza del territorio nazionale, per i contingenti italiani missioni all'estero, per il sistema di alleanze di cui facciamo parte e più in generale per la difesa degli interessi nazionali in un quadro strategico segnato da un multipolarismo sempre più aggressivo. Tuttavia per una serie di motivi anche storici la difesa missilistica non è stata finora tra le priorità del paese a livello politico strategico con effetti negativi sullo stato delle relative capacità nelle forze armate. Quali sono le capacità oggi a disposizione dell'Italia? Il comando operazioni aeree dell'aeronautica ha il mandato di assicurare la sorveglianza e difesa dello spazio aereo nazionale anche tramite la struttura di poggio renatico e il suo network di sensori. La maggior parte dei sistemi di difesa missilistica è operata dall'esercito e dalla marina. Il primo con il SAMP-T e la seconda con il SAM e il PAMS. Per i dettagli di sistemi in uso compreso il significato degli acronimi che ho appena usato vi rimando allo studio che sarà pubblicato sul sito IAI alla fine del webinar. Adesso vorrei sottolineare tre questioni aperte per l'Italia. In primo luogo la difesa missilistica italiana così come quella dei principali paesi europei oggi non è in grado non è in grado di contrastare efficacemente i nuovi missili personici. In secondo luogo l'Integrated Air and Missile Defense EMD dell'Europa è strutturalmente interforze e multinazionale nel quadro NATO. Come spiegherà meglio la mia collega Carolina Muti. In Italia però l'attuale integrazione a livello interforze non è soddisfacente. Rispetto a paesi come Francia e Regno Unito in Italia la distribuzione delle responsabilità tra le forze armate prevale a scapito delle interforze. In terzo luogo l'importante e giusto impegno dell'Italia nelle missioni all'estero comporta impellenti requisiti di protezione delle forze a livello di teatro come nel caso iracheno e libico. Ma ciò non deve farci dimenticare che oggi la minaccia si sta aggravando sulla parte alta dello spettro e che la nuova frontiera tecnologica è rappresentata dai missili personici. Che fare? In primo luogo analizzare attentamente il quadro della minaccia, l'innovazione tecnologica, i requisiti dell'architettura della difesa collettiva NATO, le opportunità di cooperazione del quadro UE in ambito pesco e rispetto al Fondo Europeo di difesa. Dopodiché, sulla base di quest'analisi, nello studio formuliamo dieci raccomandazioni per l'Italia, che abbiamo riportato anche nell'executi summary per il lettore più frettoloso. Nei due minuti che mi rimangono mi soffermo solo su due macro temi. In primo luogo l'Italia dovrebbe sviluppare la prossima generazione di sistemi di difesa missilistica in ambito pesco, a partire dal progetto Twister, e dovrebbe farlo in modo che siano perfettamente integrabili nell'architettura NATO. Solo l'alleanza atlantica può fornire la cornice e le capacità adeguate per la difesa missilistica dell'Europa e quindi dell'Italia. Ma è nell'Unione Europea che Roma e i principali partner europei possono trovare la quadra tra soranità operativa e tecnologica da un lato e aggregazione di investimenti ed economia di scala dall'altro. Secondo e ultimo punto, la dimensione spaziale della difesa missilistica è un elemento necessario e promettente su cui l'Italia dovrebbe investire, facendo leva sulle cooperazioni già avviate in ambito di European Space Agency, sulla sinergia con la PESCO e col Fondo Europeo di Difesa, sulle solite basi industriali e tecnologiche nazionali. E ciò è particolarmente importante per il contrasto proprio dei missili personici di cui accennavo. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e rimango poi a disposizione per eventuali domande. Grazie Alessandro. Ecco, di fronte a questo scenario che ci hai tracciato nazionale, ecco, come viene affrontato il tema a livello internazionale invece? Di questo ce ne parla Carolina Muti, ricercatrice dell'OIAI. Prego. Grazie, Fabia. Dopo questo focus sull'Italia, vorrei allargare il quadro e soffermarmi sul perché è importante parlare oggi di difesa missilistica, non solo a livello nazionale, ma nel quadro europeo e transatlantico. Due i fattori chiave. Il primo è il progressivo smantellamento di regimi di non proliferazione e controllo degli armamenti cruciali, come ad esempio il trattato sulle forze nucleari a razzo intermedio o il trattato antimissili balistici, che hanno regolato le relazioni tra le maggiori potenze fin dalla guerra fredda e contribuito ad assicurare la stabilità strategica dell'Europa. Il secondo fattore è la rapidità con la quale le nuove tecnologie contribuiscono ad aumentare precisione, letalità, velocità dei sistemi missilistici, mischiando le carte in tavola nello scacchiere strategico militare. Stati e organizzazioni internazionali non riescono ad adattarsi con la medesima velocità ai nuovi equilibri che ne derivano. Lo sviluppo di sistemi ipersonici e tecnologie STELS, il perfezionamento e aumento della letalità di missili da crociera, rendono in certi casi desueti i regimi che regolano l'uso dei vettori missilistici, mentre in altri casi tali regimi sono del tutto assenti. Sempre più sfumata inoltre la distinzione tra armi convenzionali e nucleari. In più, tecnologie missilistiche anche datate sono oggi potenzialmente alla portata di molti attori, statali e non, mentre mettere in campo una difesa efficace e molto più costosa è difficile. La tecnologia corre più dei trattati, dunque. Come si posiziona in questo quadro l'Europa? La difesa missilistica dell'Europa è legata strutturalmente all'architettura di deterrenza e difesa dell'Alleanza Atlantica. La Integrated Air and Missile Defense della NATO comprende la difesa missilistica antibalistica che protegge il territorio europeo e le forze alleate dispiegate nei teatri operativi da missili balistici a corto e medio raggio. Tutti i paesi alleati analizzati nello studio partecipano attivamente alla difesa integrata in ambito NATO. In particolare, gli Stati Uniti contribuiscono all'architettura di difesa missilistica alleata in maniera decisiva, attraverso l'European Faced Adaptive Approach, il cui perno è il sistema missilistico Aegis Assure, schierato a De Veselu in Romania e sulle caccia torpediniere con sistemi Aegis nelle acque spagnole. L'infrastruttura di comando e controllo si trova invece presso la base di Ramstein, in Germania. Il comando raccoglie i dati provenienti dai radar di sorveglianza dello spazio aereo in tutto il territorio della NATO. A completare il quadro, il sistema radar situato in Turchia, a Kurečik. Il prossimo tassello della Integrated Air and Missile Defense verrà posto in Polonia, paese che ospiterà un altro sistema missilistico Aegis Assure nella città di Regikovo. Il Regno Unito, da suo canto, contribuisce fornendo il 10% delle spese totali per la difesa missilistica integrata degli alleati. Nonostante i diversi approcci nazionali e le diverse culture strategiche degli alleati, la difesa missilistica non può che essere interforze e multinazionale, poiché il fallimento o il ritardo anche di un solo elemento tra quelli sovracitati può produrre il fallimento dell'intero sistema di difesa. Gli alleati europei stanno cercando di fare la loro parte, usufruendo degli strumenti messi a disposizione dall'Unione Europea, ad esempio attraverso la cooperazione strutturata permanente PESCO. È proprio in questa cornice, infatti, che verrà sviluppato entro il 2030 un intercettore endoatmosferico in grado di ingaggiare missili balistici a raggio medio e intermedio e veicoli ipersonici, con un sistema spaziale di early warning. Il progetto denominato Twister vede la partecipazione del nucleo di Stati europei dotati di maggiori capacità militari, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Finlandia sotto guida francese. Twister vuole contribuire alla difesa aerea e missilistica della NATO e, al contempo, allo sviluppo di maggiori capacità europee in questo settore, stimolando l'interoperabilità tra partner europei e condividendo i costi. In conclusione, lo studio affronta non solo la dimensione euroatlantica, ma anche quella nazionale, strategico-militare e quella tecnologico-industriale. Io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Flavia per il seguito del nostro incontro. Grazie Carolina per il tuo intervento, grazie per questa panoramica internazionale che ci hai tracciato, grazie ad Alessandro Marrone invece per la panoramica italiana. Io partirei, se d'accordo, dal generale Vecciarelli, perché nell'attuale quadro strategico internazionale ci sono ovviamente delle priorità generali per quanto riguarda la difesa comune e anche quella italiana. Se dovesse definire un quadro di priorità bassa, media o alta, dove inserirebbe la difesa missilistica e quali sono le motivazioni? Prego. Grazie Flavia. Consentitemi di ringraziare l'OIAI e soprattutto la direttrice Natalii Tocci per aver pensato a un tema così rilevante come la difesa missilistica. Voglio ringraziare anche Alessandro Marrone e Carolina Muti per la loro introduzione. Mi ricollego proprio a quello che ha detto Alessandro e quindi nel ricordare le problematiche di Lampedusa nell'86, la guerra nella ex Yugoslavia, le problematiche che abbiamo incontrato recentemente a Derbille con i lanci miraniani sulle basi americane, sulle quali siamo presenti nella coalizione, l'evoluzione recente dei missili personici della Russia, ma citerei anche la Cina e aggiungerei che questa proliferazione non si ferma a questi casi, ma voglio ricordare quello che è successo recentemente in Arabia Saudita con lanci di sistemi comunque missilistici, magari i cruvis o balistici a corto raggio dallo Yemen, in Nagorno-Karabakh, ma anche i lanci che dall'Iran hanno interessato un'area dell'oceano indiano, così come la Corea del Nord ha recentemente effettuato dei test balistici verso il mar del Giappone. Quindi stiamo vivendo una fase che vede la proliferazione missilistica avanzare gradualmente con l'ambizione di certi stati, ma direi anche con l'ambizione di entità non statuali. Quindi investire in armi di questo tipo, quindi un arsenale missilistico, dà un grande ritorno sotto il profilo dell'efficacia rispetto al costo e impone a chi si deve difendere un coinvolgimento operativo e direi inizialmente finanziario assolutamente rilevante. Come stiamo trattando la materia in campo nazionale? Bene, hai fatto Flavia dividere la domanda in due, ovvero come ci poniamo per quel che riguarda la difesa del nostro paese, geograficamente parlando, e come ci poniamo per assicurare la difesa del nostro personale che, come sapete, è in 37 missioni diverse, in ben 25 paesi in una fascia molto ampia del territorio mondiale. E ha fatto bene Alessandro Marrone a richiamare le difficoltà tecnologiche, ma anche finanziarie, di sviluppare sistemi che possono essere all'altezza delle minacce missilistiche allo stato dell'arte. Cioè, quando parliamo di missili personici che viaggiano quindi a sette volte la velocità del suono e poi rientrano in atmosfera, manovrano a un numero elevato di g, diventando imprevedibili anche perché le testate potrebbero essere multiple, ecco, si tratta di realizzare sistemi che probabilmente dovranno ingaggiare la stessa velocità e quindi alla velocità della luce. Faccio riferimento a sistemi a energia diretta e quindi a sistemi che non molto tempo fa in uno scudo spaziale erano stati individuati come l'utilizzo del laser. E questo probabilmente è il futuro. Ma ci dobbiamo preoccupare anche di difendere il nostro personale in missione, nelle varie missioni nel globo, perché lì minacce di più limitata entità costituiscono comunque una problematica rilevante. Ed ecco allora che facendo, dovendo fare, tornare i conti e dovendo alla fine dell'anno effettuare una programmazione che sia comunque bilanciata con le risorse che il Paese ritiene di poter mettere a disposizione della difesa, il mio problema è rimanere comunque flessibili entrando in dinamiche di multidominio dove la digitalizzazione e l'innovazione gioca il suo ruolo, pensare di rimanere ingaggiata nella cooperazione soprattutto europea, così come con i partner alleati. Ed è per questo che per esempio abbiamo recentemente aderito a uno sviluppo ulteriore del Samp-T con quella che si chiama la nuova generazione di questi sistemi missilistici, che tra l'altro verrà estesa dall'iniziale a Setti che erano per l'esercito e per la marina anche all'aeronautica, quindi una comunità di sistemi che ci porrà nelle migliori condizioni di difendere il territorio da questi che sono le minacce più basse. Ma allo stesso tempo abbiamo pensato, specialmente per i nostri reparti nelle varie missioni, di doverci dotare di sistemi di counter UAS, intendendo con questo non solo i micro e mini URV, ma anche sistemi del tipo cruise missile. In questo ci stiamo impegnando affinché nel giro di un medio periodo si possa disporre di adeguate contromisure, quindi adeguate sistemi che garantiscono la sicurezza del nostro personale. Ma allo stesso tempo ci stiamo impegnando per realizzare una space situational awareness, perché è dallo spazio che arriveranno queste minacce, e nell'entrare in questi progetti pensiamo così di poter dare il nostro contributo a quella che è la deterrenza dell'alleanza, aderendo poi anche a programmi, l'avete citato, il twister della PESCO, ma vorremmo anche iniziare a pensare a qualcosa di più e fare la nostra parte, e penso che questo potrà essere fatto, faccio un esempio, mi riferisco al Tempest, laddove una grande quantità di energia potrà essere a disposizione di questo sistema di sesta generazione, non escludo che si possa pensare anche all'impiego di energia diretta, o comunque all'avvistamento, se non nella fase di lancio, nella fase di transizione e eventualmente all'ingaggio di missili di questa ultima generazione, quindi anche i personici. per riaffermare l'esigenza di dialogo e di cooperazione tra la difesa e l'industria nazionale, che è ben posizionata nel contesto internazionale, e ha le capacità e le potenzialità per entrare in quei programmi di cooperazione, sia europea sia nell'ambito dell'alleanza, che sicuramente ci porranno, in termini temporali adeguati, nelle condizioni di poter fronteggiare queste nuove minacce. Bene, grazie generale per il suo intervento, tra l'altro come spesso ha già fatto, ha legato il tema della missilistica naturalmente allo spazio, ed è giusto, sono due temi e due ambiti assolutamente comunicanti e importanti tra loro. Alessandro Profumo, Nello studio si affronta, come già aveva spiegato, mi sembra, prima Carolina, nella presentazione della ricerca, si affronta il progetto PESCO, della cooperazione strutturata permanente, in particolare il progetto Twister, e le opportunità anche legate al Fondo Europeo di Difesa, l'IDF. In questo momento, naturalmente, lei riveste il doppio incarico di capo, del principale player italiano Leonardo, e anche presidente dell'Associazione Europea di Settore e ISD. Ritieni che un'iniziativa europea in campo missilistico possa spingere verso una maggiore collaborazione, un rafforzamento tra le imprese del vecchio continente? Prego. Grazie, grazie Flavia per la domanda, e grazie all'OIAI per aver organizzato questo incontro, che vedo in una duplice dimensione, uno prettamente tecnica, e credo che sia estremamente rinunante, e l'altra dimensione europea, anche il generale Veciarelli, prima che ringrazio, ha fatto un forte accenno alla necessità di cooperazione e di condivisione di conoscenze. Questo perché emerge dallo studio, direi molto bene, la minaccia in campo missilistico, una minaccia complessa, con elementi di grande innovazione, di personico, è certamente un elemento innovativo, ma che per il nostro Paese poi ha anche una dimensione particolare, perché essendo una grande portaerea in mezzo al Mediterraneo, può vederci soggetti a problemi di minaccia, sia con mezzi più tradizionali, che con mezzi innovativi. Quindi il tema della difesa missilistica, certamente è un tema molto molto importante. Per le tecnologie che sono coinvolte, per la complessità delle minacce, noi definiamo come necessario un approccio stratificato a questo tipo di minaccia, in cui si portano diverse tecnologie, si è parlato del concetto di diverse forze, si parla anche del concetto di molti paese. Quindi è un concetto stratificato in più dimensioni, nelle quali certamente l'integrazione e l'interoperabilità sono estremamente rilevanti per appunto mondi diversi. Parliamo di satelliti, per la situazione all'awareness, di cui parlava prima anche, il generale Vecciarelli, radar a lungo raggio, che poi devono essere integrati in sistemi di comando e controllo e battle management, che hanno una capacità di reazione della frazione di millosecondo, perché appunto questi oggetti viaggiano piuttosto veloci e hanno anche traiettorie molto particolari. Quindi ad esempio è fondamentale anche un sistema di intelligenza artificiale che consenta di prevedere che cosa può succedere, sistemi di comunicazione sicura, perché alla fine questa situational awareness verrà portata da una sensoristica diffusa in molti paesi e in molti domini, perché potrà essere aria, terra e mare, quindi bisognerà riuscire a mettere insieme queste informazioni in modo sicuro con la velocità della luce, come si diceva prima, e poi ci vogliono una serie di effectors che vanno a, ma qua ne parlerà penso più Lorenzo di quanto non ne possa parlare io, vanno a reagire. Ecco, Leonardo aveva già delle grandi competenze negli ultimi anni, abbiamo investito tanto nella componente digitale e nella componente di elettronica, vogliamo essere uno dei player che in questo sistema integrato svolge un proprio ruolo. Lo diceva prima Enzo Veciarelli molto bene, il limite forse è in parte tecnologico, dovremmo essere aperti a cooperare anche con partners magari non europei su queste tematiche, perché sono obiettivamente tematiche di grande complessità, ma uno dei limiti è quello finanziario e da questo punto di vista, essendo anche un mondo relativamente nuovo per il sistema europeo, ci può essere veramente la grande opportunità di muoversi dall'origine su basi europee, per questo vediamo con grande favore il programma Twister, vediamo con grande favore il tema EDF coinvolto in questa iniziativa, perché evitiamo duplicazioni. Le duplicazioni, tutti noi siamo, oltre che soggetti interessati alla tematica della difesa dei pagatori di tasse, è l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse nostre, dei nostri concittadini, per massimizzare la capacità di difesa e dare a chi in modo egregio opera nel settore della difesa del nostro paese tutti gli strumenti necessari e opportuni, è ovvio che avere capacità di ottimizzazione dell'uso delle risorse è assolutamente fondamentale, perché sappiamo che poi tutte le volte andiamo a cozzare con la necessità e ne accennava prima il generale Reciarelli di pianificare delle risorse finanziarie che vedono molteplici domande. Quindi vediamo un tema di grandissimo interesse, di grandissima necessità per il nostro paese, perché forse è più esposto ancora di altri, essendo proprio geograficamente posizionato in modo da avere una grandissima esposizione, certamente abbiamo delle capacità che possono utilmente essere messe a fattore comune per dare appunto alla difesa gli strumenti opportuni e necessari, altrettanto certamente vediamo che questo va fatto con una forte cooperazione europea e forse anche con altri partner che io definisco like-minded partners, cioè con la stessa approccia sotto il profilo dei sistemi valoriali che ci consentano appunto di costruire dei sistemi di difesa messilistici adeguati alle nuove minacce, sapendo che oggi i minaccianti sono avvantaggiati rispetto ai minacciati. Bene, grazie Alessandro Profumo per il suo intervento, quindi forte collaborazione europea, viene auspicata in questo settore così delegato. Guido Crosetto, naturalmente noi siamo tutti in presenza, invece lei Guido è a distanza, ma ci vede e ci sente perfettamente. Parliamo delle opportunità per l'industria italiana. Ecco, un'iniziativa che sia dell'Unione Europea che sia della Nato in campo della difesa missilistica potrebbe naturalmente coinvolgere la filiera produttiva del nostro paese e ciò naturalmente imporrebbe anche una spinta ulteriore verso l'innovazione tecnologica. Quanto potrebbe pesare, secondo lei, Presidente, nel favorire lo sviluppo dell'intera filiera? Prego. Grazie, dottoressa Giacobbe. Ringrazio tutti. Lo Iai, Natali Tocci, Alessandro Marrone, Carolina Muti e anche il generale Vecciarelli e il dottor Profumo che mi hanno preceduto. Continuo nel solco di quello che hanno già detto loro. Chiaramente noi siamo in questo settore, finora siamo stati avvantaggiati, perché noi disponiamo di una tecnologia, cioè abbiamo delle persone con il know-how, abbiamo delle aziende con il know-how, abbiamo una filiera con il know-how, abbiamo uno strumento con cui partecipare a questo settore, che è MBDA, cioè non nascondiamocelo, che è il principale strumento che esiste in Europa ed è il secondo strumento, cioè nel senso per partecipare alla costruzione di missili che esiste al mondo. e quindi siamo da questo punto di vista avvantaggiati in qualunque possibile cooperazione. Sta di fatto che, come emerge perfettamente dal vostro studio, è uno dei meriti di questo studio, voi avete evidenziato tra i dieci punti un punto importantissimo, che è la continuità degli investimenti, e cioè la certezza delle allocazioni di bilancio nel medio-lungo termine, unitamente a un battente di risorse adeguate che serva a sostenere il programma di modernamento alla difesa. Quindi viene anche ben sottolineato nel vostro studio un concetto che l'AIAD più volte ha richiamato, che la certezza delle risorse è a tutela del ruolo che il Paese può assumere o meno nei contesti di cooperazione sia europea che internazionale. partendo dallo stesso Twister, che qualcuno prima, forse Alessandro, ha nominato, ma anche nelle cooperazioni bi o multilaterali. D'altronde è un discorso che Becciarelli o che il generale conserva fanno da tempo e fa parte però di una necessità sia della parte di pesa, sia delle distribuzioni di pesa, sia della parte industriale, perché la certezza delle risorse e la visibilità a medio-lungo termine dei programmi è assolutamente un fattore esiziale per tutti e lo è soprattutto in questo settore, anche perché, per essere altrettanto franchi, se l'incertezza dei fondi per l'amortenamento alla difesa sono di per sé un fatto, per non nasconderci, prendiamo atto che all'interno di queste risorse che tutti consideriamo limitate, quelle destinate alla missilistica normalmente, come voi richiamate nel vostro studio, rappresentano un 3-4% degli investimenti nel bilancio ordinario, quindi una percentuale limitata. Questo per dire che cosa? Non solo bisogna capire a parole qual è l'importanza e la strategicità di un settore, ma poi l'adesione e la partecipazione a progetti come Twister, ma nel Capability nel cortissimo, corto e medio raggio, come ad esempio la LOI che abbiamo firmata con altri dieci paesi Nato, presuppongono delle risorse adeguate a sostegno dell'indicazione politica. Per non sprecare quindi il patrimonio industriale e tecnologico che noi abbiamo ancora in questo settore, è necessario, come voi evidenziate benissimo alla fine dello studio, per questo vi ringrazio, far seguire alle dichiarazioni di importanza anche delle scelte specifiche, molto chiare, perché su questo possiamo costruire una di quelle tecnologie di nicchia che ci consentono anche nei prossimi decenni di mantenere un divario tecnologico industriale rilevante come quello che abbiamo in questo settore mantenuto fino adesso. Grazie Guido per il suo intervento. Io passerei la parola a Lorenzo Mariani perché lo studio menziona naturalmente i sistemi missilistici personici che sono stati naturalmente citati dal generale Veciarelli, da Alessandro Profumo e anche da Alessandro Marrone. Ecco, come i sistemi missilistici sono naturalmente i personici, sono un interesse centrale per le potenze come Stati Uniti, Russia e Cina. La luce di questo attivismo, ingegnere, quanto è inevitabile un'iniziativa per esempio europea e quali sono le sfide tecnologiche nella frontiera degli personici, come contrastarle perché sappiamo che comunque finora non ci sono delle tecnologie efficaci in questo senso. Prego. Grazie Flavia. La risposta io la darei diretta. Sì, credo che sia inevitabile. Credo che sia inevitabile una risposta europea e credo che sia Gianna Veciarelli sia Alessandro Profumo l'abbiano già detto. In realtà, mi ci ricollego con un attimo di contesto. Stiamo parlando della minaccia ipersonica, quindi che si tratti di un missile cruise spinto da uno scrumjet, che si tratti di un veicolo glider, è qualche cosa che alla fine vola a 6, 7, 8 mila chilometri all'ora, quindi che in un secondo fa ben più di un chilometro. Per di più è un oggetto che manovra, manovra su piani orizzontali, su piani verticali. Quindi noi che fino a oggi, negli ultimi 10-15 anni, abbiamo studiato come contrastare la minaccia balistica. Oggi ci troviamo abbastanza rapidamente, perché ha ragione Gianna Veciarelli, che Russia e Cina già si stanno muovendo molto, si troviamo ad una minaccia che è molto peggiore. Come si risponde? Io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Alessandro Profumo. Una risposta è di sistema. La risposta è di sistema, che sicuramente coinvolge in particolare la componente radar, che sia radar terrestre, radar navale, o radar su satellite. Sicuramente la componente comando e controllo, in particolare lì è banale, ma si tratta veramente del punto di applicazione di big data e di intelligenza artificiale, e poi l'intercettore, che è la cosa che interessa di più, sicuramente MBBA. Qui ovviamente stiamo parlando delle tecnologie che riguardano la motoristica, la propulsione, perché se un oggetto va velocissimo, anche quello che lo deve contrastare deve andare altrettanto veloce, se non di più. Si parla del calcolatore di guida, perché sicuramente se un oggetto è capace di manovrare in maniera diversa dal passato, anche l'intercettore deve manovrare di più, sempre di più. E ovviamente del cosiddetto seeker, dell'autodirettore, colui che guida il missile sul bersaglio. Prima si parlava sempre di tecnologia radiofrequenza o infrarosse. Probabilmente adesso si parlerà di un sistema di guida che includa sia una componente infrarossa, sia una componente radiofrequenza. Non mi sono addentrato in questi particolari per il gusto di farlo, ma per descrivere veramente la complessità e quindi il fatto che un sistema di contrasto alla minaccia personica non può essere concepito da un unico paese, richiede sicuramente uno sforzo europeo e io credo che anche questo sia una sfida molto importante, ha detto bene Guido Grosetto, deve essere assistita da costanza di finanziamenti, certezza di finanziamenti. Do un numero perché secondo me è interessante, gli Stati Uniti nel 2020 e nel 2021 mi sembra che abbiano speso qualcosa tipo 3 miliardi ogni anno sulle tecnologie personiche, anche se la componente difesa fosse solo il 20%, stiamo parlando di numeri che per l'Europa sono ancora lontanissimi. Quindi il problema è che esiste. Chiudo con una considerazione importante riguardo all'ulteriore consolidamento europeo. MBDA ovviamente è attore forte in Twister, nella componente intercettore, perché la componente di Air Rewarding ovviamente è preciua di Leonardo e di altre società più sistemistiche. All'interno dell'intercettore noi operiamo come MBDA oggi in Twister nel Pesco con la Francia, la Germania, l'Italia e la Spagna, più altre nazioni, quindi 4 su 5 nazioni di MBDA. Questa è un'ottima notizia, piuttosto ce n'è anche una non tanto buona, manca l'Inghilterra. È mia convinzione che la competenza maturata dall'Inghilterra nell'ambito di MBDA e nei programmi ben noti, Meteor, Storm Shadow, Aster, sia una componente irrinunciabile per contrastare una simile minaccia e di conseguenza non è tanto la domanda se anche l'Inghilterra debba partecipare al Twister, ma semmai come anche l'Inghilterra possa essere inclusa a partecipare allo sviluppo di un sistema che possa contrastare efficacemente in tempi certi la minaccia ipersonica. Grazie. Grazie Lorenzo Mariani. Siamo arrivati alla parte della Q&A session. Le prime due domande sono per Lorenzo Mariani, poi c'è una domanda per Alessandro Marron, una domanda per il generale Veciarelli e poi altre. Allora, Lorenzo Mariani, gliele faccio tutte e due, gliele rivolgo tutte e due così ci velocizziamo. A che punto sono le attività di studio sull'individuazione di nuove tecnologie per il tracciamento di minacce a lunga distanza, dove le attuali tecnologie non possono effettuare le rileverazioni adeguate, Saab e altre aziende stanno lavorando in questa direzione. Questa domanda è di Marco Mazzalupi, le rivolgo anche la seconda, la difesa missilistica è tanto più efficace quanto è più avanzata e stratificata l'interconnettività. Questo è sempre più importante se si considerano sistemi di air defense differenti. È una domanda di Gustavo Scotti Diuccio. Prego. Sono due domande che richiederebbero una trattazione lunga, cerco proprio di essere, di cogliere il punto. Allora, le attività che riguardano il tracciamento di bersagli a lunga distanza, in particolare molto manovrieri, in particolare di cross-section estremamente piccola, sono delle attività che riguardano sia MBDA, in particolare, come dicevo prima, nella componente di autodirettore del missile, dove stiamo realizzando sia a livello europeo, quindi condiviso con Francia e Inghilterra in particolare, e sia a livello nazionale dei prodotti che vanno oltre le tecnologie tradizionali, soprattutto in termini di moduli trasmetti e ricevi, di tecnologia di base e di FaceDar, TNF, quindi la risposta è sicuramente abbiamo programmi in corso, questi programmi sono condivisi, ovviamente, con la difesa, dovunque ciò sia sinergico, ovvero molto spesso, tutto ciò è anche condiviso a livello europeo, in particolare con la Francia, per i programmi che prima citava il generale Vecciarelli, e anche con l'Inghilterra, per la nostra storica collaborazione, ricordo il Meteor, ma non solo il Meteor. E direi che l'altro punto fondamentale è stato quello sollevato dal generale Vecciarelli, quando ha parlato della sesta generazione, perché è ovvio che l'interconnettività sarà un elemento fondamentale per consentire al futuro sistema di sesta generazione, per interagire con la propria componente armamento in modo da moltiplicare le forze rispetto a quelle che oggi sono disponibili. Carlo Trezza per Alessandro Marrone. Sino al 2002 era in vigore il trattato ABM che proibiva la difesa antibalistica tra USA e Russia. La denuncia del trattato da parte dell'amministrazione Bush Junior ha aperto il campo a una spirale armamentistica costosissima e senza precedenti. Non avremmo interesse ad esaminare anche l'opzione di fermare a livello internazionale questa spirale anziché svilupparla ad infinitum? Prego. Grazie per la domanda, prevenendo da uno esperto del settore come Carlo Trezza e il consiglio scientifico dell'OIAI. Nello studio c'è un capitolo apposito sui regimi di non proliferazione e soprattutto sul loro venire meno. ABM inizia anni 2000, l'Intermediate Nuclear Force Treaty e l'accordo snucleare iraniano durante l'amministrazione Trump quindi negli ultimi cinque anni. Di fatto l'ultimo pilastro rilevante per la stabilità strategica dell'Europa è il trattato New Start che è stato rinnovato fortunatamente a inizio febbraio tra il presidente Biden e il presidente Putin. Questo non può rimanere l'unico pilastro in termini di trattati di non proliferazione contro gli armamenti e quindi serve una riflessione che vada di pari passo su questi regimi giuridici e sull'ammodernamento della difesa collettiva e della data trends in ambito NATO inclusa la parte missilistica. Qui certamente la leadership è nelle mani degli Stati Uniti tuttavia ci vorrebbe, sarebbe necessario e è possibile un maggiore ruolo dei paesi europei in ambito NATO in questa riflessione collettiva sui regimi di non proliferazione specialmente da parte di quei paesi che fanno parte dei accordi nuclear sharing all'interno dell'Alleanza Atlantica. Grazie Alessandro c'è una domanda per il generale Vecciarelli di Pietro Batacchi il direttore di RID nel medio periodo generale cosa si potrebbe fare per la difesa contro missili cruis e missili personici e il breathing nel Tempest c'è già un requisito formalizzato per l'antibalistico prego a lei la parola rispondo dicendo che non vedo soluzione a breve termine contro queste minacce così rilevanti se non quello di intensificare i rapporti di cooperazione con i nostri alleati e quindi intensificare il pensiero sul tema che già da tempo c'è a tutti i livelli e per il momento continuare con i programmi che ci hanno visto attori principali sinora ho prima accennato al Sampti nuova di nuova generazione questo sicuramente costituirà nel momento della sua realizzazione quindi nel medio periodo una risposta concreta a una è una fascia di minacce che chiamerei non certamente elevata ma medio bassa ma sicuramente efficace per il momento anche per le considerazioni legate ai finanziamenti io non vedo altre soluzioni né tantomeno vedo soluzioni che ci porterebbero ad acquisire sistemi non nazionali o comunque non europei e questo è una logica che non vogliamo inserire in questa dinamica bene grazie una domanda per Alessandro Profumo cosa chiederebbe il Fondo Europeo di Difesa quanto riguardo la difesa missilistica intanto sappiamo che c'è appunto il programma Twister che è un programma compreso nell'EDF credo che sia fondamentale che questo programma venga finanziato nel medio-lungo periodo come diceva prima anche Lorenzo Mariani per noi la stabilità delle risorse nel tempo sono un elemento assolutamente prioritario un'altra un'altra domanda per Alessandro Profumo da Claudio Romano vorrei chiedere se per Leonardo la difesa italiana nel campo della difesa missilistica è prevista auspicabile anche una cooperazione con paesi extranato credo che ne stesse parlando forse lei prima Profumo su questo in ambito medio-lungoraggio o bilaterale scusatemi mi si è alzato tutto ho perso la domanda eccoci paesi nato in ambito medio-lungoraggio bilaterale soprattutto per la protezione di scenari ben specifici e limitati gliela rileggo perché forse ok nel campo della difesa missilistica è prevista auspicabile anche per una cooperazione con paesi extranato in ambito medio-lungoraggio o bilaterale soprattutto per la protezione di scenari ben specifici e limitati grazie adesso io rispondo per la componente industriale credo per la componente strategica sia più giusto risponda in generale Lecce Reddy per la componente industriale penso che lo sviluppo dei sistemi non possa che essere a livello europeo in ambito Nato non vedo la possibilità di cooperazione di sviluppo di sistemi con altri paesi altra cosa presumibilmente è l'interconnessione con sensoristica posizionata in altri paesi per identificare minacce che provengono da altre parti del mondo ma qua non è più il campo tecnico e il campo della difesa bene grazie poi c'è una domanda di Stefano Pioppi che riguarda tutti i panelisti l'ipersonica rappresenta davvero come teorizzato da più parti il game changer del confronto tra potenze io penso effettivamente sia un game changer come dicevo nel mio intervento proliferazione dei missili balistici danno una grande efficacia a un costo contenuto certamente proporzionale al tipo di armamento a cui ci si riferisce quindi si dispone tra l'altro di un vettore che crea effetti a grandi distanze quindi lontano dalla madre patria cioè da coloro che hanno intenzione di utilizzarlo crea effetti devastanti sul territorio dove questo è destinato a cadere e quindi mette in pratica un po' quelle che sono la potenza di fuoco del mezzo aereo in questo in questo caso addirittura spaziale con dinamiche che fino ad ora non erano state contemplate quindi immaginare questo questo tipo di armamento che nel giro di pochi minuti percorre distanze considerevoli quindi rientra in atmosfera a velocità ipersonica e manovra tra l'altro con testate multiple è sicuramente un game changer le grandi potenze si dovranno attrezzare di conseguenza e noi non potremo far altro che confidare nel supporto che ci verrà dato nell'ambito dell'alleanza poi ci arriva anche un messaggio da Giuseppe Cavodragone dal capo di stato maggiore della marina militare che evidentemente sta seguendo il questo incontro che dice buon pomeriggio grazie per l'invito e complimenti per l'iniziativa questa non è una domanda ma un'esortazione concordo con il capo di stato maggiore della difesa Enzo Vicciarelli sul fatto che occorra una svolta in senso interforze nella difesa antimissile in tutte le declinazioni a breve la marina parteciperà a un'importante esercitazione nell'ambito della Maritime Theater Missile Defense Forum su invito proprio della US Navy quindi ci stanno seguendo anche dalle altre forze armate bene io direi che se siete d'accordo sono tantissime le domande ma ne abbiamo fatte già abbastanza Guido Crosetto si è anche rifiutato di rispondere quindi direi che si è scocciato quindi dobbiamo dare la parola al ministro della difesa che è con noi naturalmente da remoto in collegamento ministro Guerini e il suo momento abbiamo parlato molto di questa sfida missilistica sia per l'Italia sia per l'Europa da tutte le diciamo gli autorevolissimi speaker che mi hanno preceduto sono arrivate è arrivato l'auspicio che ci sia una maggiore una cooperazione a livello europeo e l'importanza comunque sicuramente del valore dell'interforze per questo campo a livello italiano perché è una minaccia sicuramente che riguarda il nostro paese sia come diciamo posizione geografica ma anche per la nostra esposizione in teatri diciamo critici all'estero che vedono comunque il nostro paese in prima fila dopo gli Stati Uniti prego a lei la parola sì grazie buonasera grazie a Tassia Giacobbe ringrazio lo IAI per questa occasione di riflessione che ci è stata che ci è stata offerta ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti mi scuso se non ho potuto ascoltare dall'inizio tutti gli interventi ma appunto avevo un impegno al ministero dell'interno ringrazio anche tutti coloro i quali attraverso le domande che sono arrivate da remoto hanno contribuito a fornire ulteriori spunti ulteriori stimoli alla nostra riflessione e alla riflessione di tutti coloro i quali sono intervenuti questa mattina ero con il generale Veciarelli in visita a CINCNAV e in un passaggio parlavamo del quadro che stiamo del quadro strategico che stiamo vivendo in questo momento che è segnato da tensioni geopolitiche perduranti che forse è ulteriormente aggravato dalla sfida alla pandemia che tutto il mondo sta compiendo e che quindi deve vedere una grande attenzione da parte nostra in relazione alle strategie alle scelte che siamo chiamati a fare queste tensioni sicuramente hanno impatto su tutti i campi anche nel campo della difesa dove la competizione è sicuramente presente in tutti i dominio operativi inclusi quello spaziale e quello cibernetico e il tema della riflessione odierna cioè quello della difesa missilistica è certamente tema che trasversale a più domini come dicevo prima il generale Veciarelli assicura il tema della difesa missilistica la protezione del territorio nazionale rispetto ad una minaccia proveniente dall'atmosfera e per far questo si appoggia a sensore a sistemi basati a terra sulle navi nello spazio connessi dal sistema di comunicazione di comando e controllo fortemente digitalizzati ma riguarda anche il nostro personale impegnato in missione fuori area quindi tema che ci riguarda che ci interessa che giustamente vede una grande attenzione dal mondo della difesa a partire dallo stato maggiore della difesa ma che poi coinvolge anche il nostro sistema industriale e questo elemento richiamato dai tanti intervenuti del settore nell'incontro odierno c'è una sicuramente una maggiore diffusione della minaccia forse dopo una fase in cui sembrava che questo tema fosse un tema un po' relegato in un secondo piano certamente perché questa minaccia riguarda le grandi potenze che sono in grado di investire sulle nuove frontiere con un raggio di azione globale ma che riguarda anche le potenze regionali che vedono nei sistemi missilistici armi di attacco di terrenze di pressione che mi pare lo dicesse adesso ancora lo cito ancora il generale Veciarelli sono sistemi molto convenienti perché possono colpire a grandi distanze con un investimento economico minore di quello necessario per chi si vuole difendere ma che riguarda anche attori non statuali impegnati in diversi conflitti sul nostro pianeta tra Nordafrica Medio Oriente all'Asia che possono accedere a sistemi missilistici spesso sostenuti anche da potenze regionali in questo contesto diciamo così se mi consentite questa frase questa immagine nella rincorsa costante tra la spada e lo scudo in questa fase e in questo campo è la spada quella che in questo momento è obiettivamente più avvantaggiata secondo punto quindi il primo punto è questo è il quadro strategico la tensione strategica e la maggiore diffusione della minaccia secondo punto è la risposta integrata della Nato la sicurezza nazionale nel nostro paese rispetto alle minacce missilistiche è saldamente tutelata nel quadro dell'alleanza atlantica la difesa missilistica era integrata dell'alleanza mette sicuramente a sistema le capacità degli stati membri sia militarmente che politicamente e costituisce la forma più efficace di differenza e difesa per l'Europa e la Nato sotto questo profilo sta adattando la propria postura anche a seguito della sviluppo delle capacità missilistiche di cui si sarebbe dotata ad esempio la Russia nel campo dei missili a raggio intermedio non conforme al trattato INF che non a caso ha visto l'uscita degli Stati Uniti dal trattato stesso questa la presenza di sistemi americani in Europa e in Turchia da un lato e il comando militare integrato dall'altro cementano sicuramente da questo punto di vista il legame transatlantico e in questo contesto i paesi europei collaborano con gli Stati Uniti per rispondere alla sfida tecnologica che è posta dalla nuova generazione dei sistemi missilistici e proprio nel quadro dell'Unione Europea io credo che dobbiamo affrontare uno dei temi che è stato evocato dagli intervenuti cioè che in questo quadro nel quadro appunto della cooperazione europea i paesi europei devono fare di più per sviluppare insieme le capacità militari da integrare nella deterrenza e nella difesa collettiva dell'alleanza atlantica abbiamo un quadro istituzionale idoneo per lo sviluppo di queste capacità e questo quadro istituzionale è innanzitutto l'Apesco non a caso proprio l'Apesco il citato mi pare abbia parlato profumo nel suo intervento il citato progetto Twista forse anche Crosetto è un ottimo esempio di cooperazione tra i principali paesi europei credo che da questo punto di vista e lo avete lo avete sottolineato tutti lo sviluppo di capacità militari ambiziosi e robusti di questo tipo richiedono una cooperazione perché nessuno stato europeo può svilupparle da sole costruendo questi insieme queste capacità si raggiungono risultati migliori per le forze armate si ottengono economia di scala si realizza un maggiore sviluppo tecnologico e industriale e si rafforza la difesa europea in una logica di piena collaborazione con l'alleanza atlantica certamente questo può può avvenire solo attraverso una una costruttiva una crescente cooperazione tra i paesi e i rispettivi settori industriali sostenuti dagli strumenti finanziari che a livello europeo sono messi a disposizione che probabilmente necessitano forse se non mi sbaglio questo tema è stato sottolineato da una domanda di chi partecipa da remoto aiutando anche a indirizzare in maniera più strategica le risorse che il Fondo Europeo per la Difesa mette a disposizione per lo sviluppo delle capacità in questo senso dei paesi europei lo ha ricordato prima il generale Veciarelli credo che sia giusto ricordare in questo ambito quello della cooperazione europea il contratto recentemente sottoscritto insieme con la Francia tra Italia e Francia per la nuova generazione del programma Sampiti credo che sia un passaggio molto importante che abbiamo fortemente voluto e che abbiamo anche volutamente enfatizzato sia per il merito dell'accordo sottoscritto sia per il significato che esso ha infine credo che come dire dobbiamo cogliere le sollecitazioni che sono arrivate anche dagli interventi che ho sentito oggi la prima appunto la richiamavo era quella dell'esigenza della cooperazione europea nessun paese europeo può far da solo in questo campo la seconda è quella della 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 certezza della continuità delle risorse ecco sotto questo profilo io credo che noi abbiamo fatto sicuramente un passo in avanti importante lo ha ricordato Crosetto prima le risorse che sono state messe in campo dall'ultima legge di bilancio rappresentano sicuramente uno sforzo importante il fondo pluriannale per gli investimenti della difesa che abbiamo fortemente voluto è un passaggio che ha un grande significato da questo punto di vista ha anche un respiro finanziario significativo e certamente il nostro impegno deve essere quello di implementare questo fondo nelle medesime nelle medesime quantità anche per la legge di bilancio a venire noi siamo in presenza dell'esigenza di una di una necessità di un recupero sotto il profilo degli investimenti che il paese non può sicuramente rimandare abbiamo immaginato questo strumento e credo che sia stato un fatto molto positivo che tale sforzo sia stato oggetto di una fortissima convergenza in Parlamento lo è e credo che però diciamo così questo primo passo se non vuole rimanere un passo vano necessita di essere implementato dal punto di vista futuro anche con le prossime leggi con le prossime leggi di bilancio in questo senso il nostro impegno il mio impegno è quello appunto di assicurare in Italia il sostegno del governo e del Parlamento sul piano finanziario oltre che sul piano politico e nel quadro europeo e transatlantico favorire una stretta collaborazione con i nostri partner nella convinzione che credo sia una convinzione che accomunie tutti gli intervenuti che questo è uno dei settori dove o la risposta è comune o non c'è nessuna risposta infine è stato richiamato io condivido da questo punto di vista l'ha richiamato il generale Bacciarelli ma anche nell'intervento da remoto ho sentito che tale espressione ha trovato eco anche nel nel messaggio dell'ammiraglio Cavodragone del capo di stato maggiore della marina militare l'ammiraglio Cavodragone le forze armate per cogliere questa sfida devono muoversi sempre di più in maniera sempre più integrata a livello interforse questo io credo sia un passaggio decisivo che noi dobbiamo dobbiamo spingere dobbiamo stimolare anche vincendo le difficoltà le naturali qualche volta resistenze che sul percorso possiamo trovare ma spingere in maniera sempre più integrata a livello interforze io credo sia il contributo che le forze armate in maniera più significativa possono dare nello sviluppo di questa capacità e poi credo che tutti gli attori siano essi attori privati dottori pubblici debbano avere la capacità di fare sistema nel rispetto dei rispettivi nel rispetto dei ruoli di ciascuno il tessuto industriale a cui possiamo guardare il tessuto industriale certamente di grande rilevanza c'è l'esigenza di fare sistema in maniera sempre più coraggiosa e convinta spingendo la frontiera nell'orizzonte nella prospettiva di investimenti che guardano al futuro cioè non siamo nella fase io credo che in cui ci possiamo accontentare di sviluppare di portare avanti i programmi che assicurino diciamo così facili e cospicue marginalità finanziarie abbiamo l'esigenza invece di spingere nella direzione di un salto di sistema che io credo sia assolutamente necessario da questo punto di vista l'invito di muoversi in maniera sempre più integrata e capace di fare sistema credo che sia un invito che non possiamo far cadere nel vuoto quindi ringrazio ancora per questa occasione di riflessione per questa occasione di confronto e di dibattito credo che lo studio dell'OIAI da questo punto di vista possa rappresentare davvero un riferimento su cui sviluppare ulteriori passaggi e ulteriori momenti di approfondimento di discussione e poi nel ruolo che ciascuno di noi ha anche di decisione grazie ministro per il suo intervento io ringrazio tutti gli speaker che l'hanno preceduta Enzo Veciarelli capo di Stato Maggiore della Difesa grazie Alessandro Profumo amministratore delegato di Leonardo grazie per essere stato con noi Guido Crosetto presidente dell'AIAB grazie Guido a presto Lorenzo Mariani amministratore delegato di MBDA Italia grazie per essere stato con noi naturalmente grazie ad Alessandro Marrone e a Carolina Muti per aver presentato la ricerca io ringrazio tutti grazie all'Istituto Affari Internazionali per questa bella iniziativa e a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti